Noi, come militari, apprezziamo davvero la natura umana di ogni individuo e per questo motivo abbiamo deciso di donare il sangue che stavamo insieme in un hospital italiano locale. Questa iniziativa è stata planata dalla comunità greca come un esplorso di rilasciare la natura umana dei uomini e delle donne in uniforme. Di solito la vita militare è associata al sangue in senso violento, in senso cruento. Ora invece è un atto veramente di amore e di generosità che i militari dell'abbasenato qui di Lago Patria sta dando a tutto il mondo civile. Oggi sono orgogliosa che sono greca perché è un'initiativa greca e tutte le comunità greca supportano questo evento dal primo iniziativo. E sono molto felice che tutti i nazionali ci sanno oggi. È una buona attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.